...pettarlo nelle cellule sane del vostro amico che si moltiplicheranno, sostituendosi a quelle malate. Et voilà, avverrà il miracolo. Non aspettate che il vostro amico sia gravi perché non funzionerebbe. Troppo bello, direi, per essere vero. No, sì, ha ragione. Come ha fatto la McCalloc a sviluppare una cosa così avanzata? Non l'ha fatto, l'ha rubata. Viene dalla luna del Cigno. Il pianeta madre dei dominatori. Sì, da quello. Ripresosi dopo un'invasione tre anni fa. Comunque, bla bla bla. Ci state o no? Quanto è pericoloso che finisca nelle mani sbagliate? Su una scala da 1 a 10, 12. Recuperiamo quest'affare. Io disattiverò le telecamere di sicurezza esterne. Passa attraverso le porte. Fico. Come sapevi che stava qui? Come esploratore del multiverso le antenne dritte. Questo siero può proteggere qualcuno dall'antimateria? Non c'è neanche bisogno di dirlo. Telecamere spente. Dai, ragazzi. Il divertimento inizia. Venite. Velocista, portaci di corsa nel magazzino. No, non posso. Come non puoi? Ci sono mediattenuatori montati in tutto l'edificio. I miei poteri qui sono inutili. Tu qui sei inutile. Non siamo obbligati a farti il circuito. Ah, fai il duro. Hai valutato le conseguenze. Se non avrò il circuito, non vi aiuto. Ehi, Vestoni, fatela finita ora. Fermi! Tutte e due! Tutti e due? Vi possiamo spiegare? Non credo che questi ci faranno domande. Nash! Ciao, ragazzi. I vostri nerdi acuti... Cosa? Le orecchie si riprenderanno tra un paio di minuti. Al contrario di loro, ora... Dove eravamo rimasti? Dai, sbrigiamoci. C'è la nostra vita e un'altra in gioco. Abbiamo pensato... Grazie a tutti.